Andiamo al segno dell'acquario, è una luna fantastica, questa che transita nel segno dei gemelli, bellissima soprattutto per l'amore, ma è una luna che parla di fortuna, la fortuna che sarà la grande protagonista di questo 2017 e già da un punto di vista lavorativo può dare dei risultati, può farvi raggiungere un obiettivo, un piccolo o grande successo. Certo, dovete rimboccarvi le maniche, ma questa sarà una costante un po' di tutto l'anno. Amore davvero molto sensuale per voi.